E' stato indetto un corso gratuito per arbitro di calcio per ragazze e ragazzi dei 14 e 40 anni. Il corso avrà svolgimento presso i locali sezionali di Sulmona in via Carrese. L'essere arbitro rappresenta un'importantissima esperienza di crescita umana e personale, consentendo ai giovani di formare al meglio il proprio carattere e personalità, svolgendo al contempo attività sportiva. I nuovi arbitri, al termine del corso, riceveranno gratuitamente la divisa ufficiale della Leggea, la tessera federale che consente l'ingresso gratuito in tutti gli Stati d'Italia, il certificato utile anche ai fini del credito scolastico. Da subito saranno impiegati nella direzione delle gare la presenza di un tutor che li accompagnerà nelle prime partite. Alla direzione delle gare verrà corrisposto un rimborso spese, fondamentale per l'associazione coinvolgere il maggior numero di giovani che avranno altresì modo di partecipare ai numerosi eventi e alla presenza di illustri personalità del mondo sportivo arbitrale, come da ultimo l'evento svolto si presso il liceo Fermi di Sulmona, al quale ha partecipato l'arbitro internazionale Maurizio Mariani.